Tanti animali selvatici sulle strade cittadine, limitrofe e negli ultimi giorni molti sono stati gli avvistamenti dei caprioli che spesso, purtroppo, rimangono vittime di incidenti stradali. Solo nella giornata di oggi, quattro gli investimenti a Venzone, a Premariacqua, a Trevignano Udinese e a Bicinicco. Oltre ai danni ingenti alle vetture, le ferite riportate dagli animali che spaventati sono fuggiti. Proprio ieri è stato rinvenuto un capriolo in centro città, in chiaro stato di sciocchi in un'area condominale vicino al Palamostre. L'animale è stato recuperato dal corpo forestale ed è stato subito portato al centro per il recupero della fauna selvatica di Campoformido che, come rivela il responsabile Maurizio Zuliani, ha liberato nel giro di dieci giorni ben tre caprioli, tra cui questo nel pomeriggio di oggi. Ormai siamo abituati ad avere caprioli nei paesi, nella città. Abbiamo alta densità di traffico sulle strade e quindi i caprioli sono sempre comunque a rischio. La forestale ne recupera circa ogni anno morti, ufficialmente circa 350, quindi sono numeri molto alti. Non dobbiamo dimenticare che il capriolo lo possiamo vedere tranquillamente in città, quindi è sempre meglio comunque un comportamento discreto nei confronti di caprioli, non cercare di spaventarli perché non è un animale molto facile da gestire. Possono morire subito da infarto pur non avendo niente. Questo qui è stato uno tra i fortunati, pur essendo arrivato ieri in condizioni abbastanza gravi, diciamo, però diciamo che il suo cuore è tenuto molto bene. Grazie. Grazie. Grazie.